Nessun ferito in via Settevalli a Perugia. Un pezzo di cordolo si è staccato dal ponte di via Mentana nel tunnel che da via Settevalli va alla stazione di Fontiveggia. È successo oggi attorno alle 17. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con autoscala per le dovute verifiche. Un pezzo di cordolo del ponte si apprende dai caschi rossi e è caduto giù. Una parte di via Settevalli è stata messa in sicurezza con la chiusura e la deviazione del traffico in altra zona della città. La zona tra l'altro è sempre molto trafficata. La fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse a passare di lì. Sul luogo sono arrivati anche la polizia municipale di Perugia, i tecnici e il geometra incaricato dal comune. Indagini sono comunque in corso.